Sospesa in Pisciotta, la Sagra del Pesce, organizzata dall'Associazione Lega Navale Sezione di Pisciotta per problemi igienico-sanitari. I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del Capitano Menato Malgeri, coadiuvati dai personale del Dipartimento di Medicina Preventiva dell'Asile Salerno, distretto di Vallo della Lucania, sono intervenuti in Marina di Pisciotta, luogo in cui si svolgeva la tradizionale Sagra del Pesce. All'esito dei controlli effettuati dalla stazione Carabinieri di Pisciotta, coadiuvati dal personale sanitario, si disponeva l'immediata sospensione della manifestazione, essendo emerse carenze igienico-sanitarie sui punti di cottura e somministrazione degli alimenti. Il responsabile della manifestazione, nonché legale rappresentante della citata associazione, originario di Napoli, ma residente a Pisciotta, veniva elevato verbale di contravvenzione. Diverse le persone che hanno dovuto ricorrere presso l'ospedale civile di Vallo della Lucania alle cure sanitarie per intossicazione alimentare.